Una casalinga confida all'amica incontrata al mercato le proprie frustazioni. Sai, col mio marito non è che poi vada così male, ma lui è sempre sbogliato e soprattutto ormai non mi guarda quasi più. Figurati che quando torna a casa la sera tutto quello che sta a dirmi è Amor, che si mangia stasera? E l'amica gli dice, eh sai Piera, gli uomini sono tutti un po' uguali, così infantili e probabili. Anche io avevo il tuo problema, ma sono riuscita a risolverlo in un modo semplicissimo. Davvero? Gli dice la casalinga. Ma come? Dimmi tutto, che ci voglio provare anch'io. E l'amica gli dice, guarda, comprati un completino nero, un po' aggressivo e soprattutto una mascherina nera. Gli apri la porta vestita così, tutta sensuale e l'effetto è assicurato. Non mi dire, dice la casalinga, basta così poco? Beh, provo, tanto per quello che mi costa. Dopo una settimana le due amiche si rivedono nuovamente al mercato. E allora Piera, com'è andata poi con il tuo marito? E la casalinga risponde, eh vuoi proprio saperlo? Beh, è tornato. Gli ho aperto la porta e lui mi ha detto, ue ue, zorro, che si mangia stasera? Eh, uh, 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 uh.